No, no, rimane il buono assolutamente perché è stata una partita secondo me giocata in maniera incredibile quindi ci deve dare fiducia ci deve dare stimoli ma allo stesso tempo non deve farci pensare di aver risolto tutti i problemi o che possa essere facile d'ora in poi anzi sarà difficilissimo complicato fino a fine del campionato e noi dobbiamo continuare su questa strada questo è quello che ci lascia questa partita giocontentezza per la prestazione però allo stesso tempo dimentichiamocela subito e concentriamoci questa settimana che è veramente andremo incontro una settimana veramente impegnativa con tre partite in una settimana quindi sarà dura Ma le certezze in questo momento le abbiamo un po' da tutte le parti quindi lo sapete che quando che quando si parla di attacco che non segna non è solo responsabilità degli attaccanti questo lo penso io ma credo che lo pensano un po' tutti gli addetti ai lavori e quando si parla di difesa non è solo merito della difesa o demerito è un lavoro di squadra che si fa in tutte e due le fasi il calcio va in questa direzione e quindi complimenti ai ragazzi perché si stanno applicando al massimo i risultati si vedono Ma delusione c'era perché noi ci credevamo dall'inizio l'abbiamo preparata per vincere la partita non certo per accontentarci di un pareggio e chiaramente dopo i 90 minuti visto comunque che noi abbiamo creato tra il tre o quattro situazioni in cui potevamo fare gol mentre loro praticamente non hanno mai tirato in porta c'era un po' di amarezza perché perché per noi sono punti importanti perché noi abbiamo bisogno di fare punti per tenere lontana la classifica le squadre che sono sotto di noi in classifica e perché quella giornata lì comunque ci ha dato dei risultati negativi per quanto ci riguarda perché comunque le diverse squadre che sono sotto di noi hanno vinto quindi sicuramente positivissima la partita però i risultati in generale della domenica non sono stati per noi il massimo Ma sai finché non giochi soprattutto dopo una sosta ti puoi aspettare di tutto questo è merito veramente del lavoro dello staff del pro del preparatore atletico quindi faccio i complimenti a lui oltre che ai ragazzi a tutti i Tutto lo staff perché stanno lavorando bene e come ho detto prima il campo è sempre quello che poi ti dice se hai lavorato bene se hai fatto le cose nella maniera giusta e domenica sicuramente abbiamo avuto dei riscontri molto positivi Ma sì perché comunque era un giocatore che me lo ricordavo ad averci giocato contro e perché è un quel giocatore che ha qualità che comunque serve a questa squadra lui come qualcun altro non solo lui e quindi è un giocatore credo credo importante Dargli fiducia credo che sia importante però anche lui non si deve sedere sugli allori dopo queste prestazioni ma continuare a lavorare come sta facendo e sicuramente se farà così avrà ancora modo di divertirsi Quando sono venuto quando sono arrivato si parlava di un giocatore ormai non dico finito però che era molto in difficoltà invece merito suo è principalmente merito suo è riuscito a lavorare a calarsi con la mentalità giusta e sta facendo delle grandi prestazioni ma in questo momento adesso non deve mollare Parlando dei simboli un altro giocatore che sarà adesso che è perso prima del suo arrivo Manè sta in media in modo di vedere è facendo tanto in realtà Manè l'ho detto anche domenica dopo la partita in conferenza è il giocatore che secondo me ha avuto veramente più miglioramenti di tutti da quando sono arrivato perché domenica ha giocato con una maturità incredibile con una personalità importante e sinceramente mi ha stupito anche a me perché ha giocato veramente semplice oltre a essere bravo nella fase difensiva si è messo lì ordinato con tranquillità ed è quello che mi è piaciuto più domenica La squadra oltre ad aver lottato come deve fare sempre ha anche fatto del buon gioco e sinceramente siamo usciti con dei fraseggi meglio del Vicenza e quindi questo veramente mi fa ben sperare per il futuro La cosa che mi ha sempre presentato prima è una mia ma un po' sull'eseguirio militare c'è stato anche un lavoro su questo quindi c'è la città trotica che fosse andare fisicamente forte e poi lo raccontiamo da tempo Sì, quello che è migliorato infatti è il discorso un po' di essere più ordinato prima forse era un giocatore quando siamo arrivati un po' disordinato di difficile collocazione Invece magari lì davanti insieme a Urbinati ha trovato la collocazione giusta e danno equilibrio oltre a dare tanta sostanza che è quella di cui abbiamo bisogno e stanno migliorando anche nella fase di possesso Quindi quello è importante e non dimentichiamoci che abbiamo anche giocatori fuori e altri centrocampisti che sicuramente faranno comodo in futuro e che hanno delle qualità importanti anche a livello tecnico No ma è mia abitudine già la domenica dopo la partita Sì, oltre a pensare la partita già a guardare in prospettiva la partita successiva e onestamente ho diversi problemi che mi rendono felice, sono sincero che mi rendono contento perché anche davanti Maestrello, Conigni, Molinari, tante alternative Rolfini, quindi tutti i giocatori che si stanno allenando bene e che danno garanzie Dietro allo stesso tempo c'è il rientro di comodo che sappiamo quanto sia importante per questa squadra però non ci dimentichiamo il lavoro che ha fatto Manetta in queste partite E' molto importante, Scroosta, Lancini che è stato schierato a volte terzo centrale per non parlare di De Pascalis che è un ragazzo che sta facendo veramente grandissime cose Quindi sono tra virgolette in difficoltà perché la scelta non è facile e l'importante è che i ragazzi continuino ad allenarsi così Non prendano lo scoramento che non è utilizzato anche perché adesso come ho detto prima andiamo incontro a tre partite in una settimana E sicuramente ci sarà bisogno di quasi tutta la rosa per non dire di tutta la rosa Mi parlo spesso anche, veramente, riguarda anche i porti di Proletta e di Cinesi perché in assenza forse anche lo stesso capitano Comunque sia, si è sentito grandissimo in due domeniche, cioè un giocatore che a sua presenza o perché il Parano si era già parola E cambia tanto questo anche tutto l'assetto della difesa di Cinesi in campo Ma come ho detto prima era un giocatore che lo conoscevo da avversario più che ad averlo avuto E' chiaro che l'esperienza soprattutto in quel ruolo lì secondo me è importante, come ho sempre detto Ha sicuramente dato tranquillità, serenità ai compagni di reparto Però come ho sempre detto non mi dimentico Gemello che stava crescendo molto E che quindi ce lo teniamo sempre in considerazione Quindi tantissimi complimenti a Ginestra perché ci sta dando sicuramente una mano Ma dobbiamo anche ricordarci di chi ha lavorato prima, di chi ha fatto comunque delle buone prestazioni anche prima La difesa a tre non è tanto un discorso a mio avviso di centimetri Perché se riusciamo a tenere alta la squadra come l'abbiamo fatto col Vicenza Il problema dei centimetri si può verificare su tanti cross laterali Se facciamo come domenica che non gli abbiamo quasi praticamente concesso dei cross La palla rinviata centralmente anche se un giocatore a centimetri ti crea sicuramente meno problemi Quindi dobbiamo essere bravi a tenere la difesa alta, non concedergli le fonti di gioco soprattutto dagli esterni Che in quel caso si potrebbe far valere i propri centimetri Ma sicuramente il motivo perché non l'abbiamo sofferto è quello Perché non abbiamo permesso al Vicenza di rifornire gli attaccanti Oppure di rifornirli solo con rivi lunghi da dietro e dal portiere E in quel caso la difesa è sempre favorita anche se non ha grandi centimetri Sì, è stato anche un po' diciamo Sì, 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 ci ho parlato No, 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 assolutamente ci abbiamo parlato perché non dobbiamo commettere queste ingenuità In cadere in provocazioni, il ragazzo è stato un po' provocato La partita era salita di tono agonistico negli ultimi minuti E ha fatto un'ingenuità magari nel non essere troppo lucido sicuramente Qui dobbiamo migliorare perché rischiavamo di rovinare magari una partita Che era stata veramente perfetta sotto tutti i profili Sotto tutti i profili Quindi dobbiamo stare attenti, migliorare da quel punto di vista lì E essere anche più freddi mentalmente Cuore caldo e mente fredda Ma adesso è importante Salò perché è la prima che affrontiamo Poi dopo Salò sarà importantissima Ravenna E mi aspetto, mi aspetto una prestazione come quella di domenica È chiaro, adesso è facile dirlo, sarà più difficile farlo Però stiamo lavorando per quello Non dobbiamo, come ho detto prima, cullarci Non dobbiamo diminuire l'attenzione e la concentrazione E cercare di presentarci nella stessa maniera Come abbiamo affrontato il Vicenza con la Feralpi Salò Che è una squadra, non dico sullo stesso piano perché la classifica comunque non inganna Però è una squadra sicuramente di grande qualità È costruita per vincere, quindi per essere tra le prime Quindi sarà sicuramente una partita difficile E come ho detto prima Più che Salò, Ravenna Io dico Salò, Ravenna e Piacenza Tre partiti in una settimana In cui sicuramente qualche cambio dovrà essere fatto per forza Perché dobbiamo assolutamente affrontare le partite in una condizione fisica più importante possibile Ed è difficile fare tre partite ad altissimo livello di condizione fisica Quindi sicuramente qualche cambio cercherò di utilizzare il più possibile tutti i giocatori